Questo programma contiene linguaggio volgare, scene e riferimenti sessuali dall'inizio alla fine. Oh, eccolo! Sono qui! Come stai? Bene, e tu? Congelata, ma tutto bene. Tom e io siamo migliori amici da quando avevamo 16 anni. Gli ho detto che volevo mangiare con lui, ma invece lo porterò in un cinema privato per vedere un montaggio di immagini sue e mie e per chiedergli di accompagnarmi all'altare, sperando che sia felice della mia richiesta. Spero che tu non sia così affamato. Perché? Beh, perché lo so che ti avevo invitato fuori per mangiare. Invece andremo al cinema. Cosa? Andremo al cinema. Ora? Ti piace il cinema? Sì, mi piace il cinema. Ci sono gli hot dog, potremmo mangiare. Sì, al cinema ci sono e li vendono, noi li mangeremo. Sì, assolutamente. Quindi sei d'accordo? Sì, assolutamente. Fantastico! Hot dog, arriviamo! È bello avere un amico che conosco da prima che io apparissi in TV e che sa anche tutto quanto di me. Wow, non ci credo! È incredibile! Eccoti un cocktail. Il mio preferito, grazie tesoro. Ok. Facciamo un brandy-sì? Hai film! Hai film! È il cinema più comodo che abbiamo visto. Una cannuccia, voglio una cannuccia. Non hanno le cannucce. Salviamo il pianeta. Io stavo pensando che non facciamo molte cose ultimamente. Non facciamo molto, no. Visto che io vivo a Manchester. E io che vivo a T-Site. E ho pensato, perché non andiamo al cinema invece di mangiare, che è una cosa noiosa. Guardiamo qualcosa che ti piacerà. Sono molto nervoso. Non devi essere nervoso. Sono eccitato e anche un po' nervoso. Sei pronto? Prontissimo. Porca miseria. Non ci posso credere. Guarda come eri piccolo. Zante. 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 Ero magro. Tu grasso. Grasso. Guarda. Il lancio del libro. Era il lancio del tuo libro. Non ricordo dove eravamo. Amsterdam. Marocco. Marocco. Triste. Triste. Qui avevamo i postumi. Altri postumi. Stavamo allenando, avevamo fame. Che cosa erano successi quella sera? Me lo ricordo, sai? No. Oh, no. Era quando ti sei perso. Vabbè, lo hai pizza. Quando ti sei perso. Qui eravamo a York. In vita. Sì, eravamo a York sul molo. Questo me lo ricordo. Se gli è piaciuto il montaggio, chissà cosa penserà della poesia. Sono passati oltre dieci anni. Le risate le notti fuori a far danni. L'uno per l'altro ce l'avamo, anche quando dormivamo. Non siamo stati mai tristi insieme. E ci vogliamo un sacco di bene. Del mio affetto non devi dubitare. Quindi ti chiedo, mi accompagni all'altare? Oh, mamma mia. Oh, mamma mia, certo. Oh, mamma mia. Sta piangendo. Non ci credo. Naturalmente, certo che sì, è meraviglioso. Non male. Non mangiamo spesso, vero? No. Non posso credere a quello che è successo. Sono scioccato, essere onesto. Ok. Fatti uno shot. Uh, che emozione. Sono onorato e accetto. Sono eccitato, emozionato. Oh, grazie. È stato dolcissimo. Grazie tante. Tom e io siamo sempre stati amici del cuore. Questa è la cilieginia sulla torta. Averlo accanto mentre vado all'altare. E consegnarmi tra le braccia dell'uomo che amo. Bene, spero che ti sia piaciuta la sorpresa. Non posso credere a quello che hai fatto. Mi sono da te a te. Lo so, lo so. Sono contento che te l'abbia fatto. Anch'io. Grazie. Non ci vediamo spesso ultimamente. Quando lo facciamo alla grande, come cinema privato, qualcosa di sì. Nessuno può fare più di così. Nessuno, nessuno, hai ragione. No. Beh, sono ancora affamato, quindi possiamo andare a mangiare? Sì, andiamo a mangiare subito.